Ben trovati dal Tg della Mobilità, domenica mattina dalle 9 alle 11.30, torna la corsa Appia Run con partenza e arrivo in Viale delle Terme di Caragalla, l'evento prevede una gara competitiva di 13 km e un percorso di 5 km non competitivo, deviate 7 linee di bus. Dalle lunedì 4 ottobre a venerdì 8 lavori di manutenzione sul percorso tramviario di via Marmorata, il cantiere si svolgerà di notte a partire dalle 21 e sino alle 4 del mattino, le giorni feriali, dal lunedì al venerdì nelle sere di cantiere bus navetta per la linea 3, tra piazzale Ossiense, la stazione di Trastevere, bus sostitutivi anche per la linea 8, ma sull'intero percorso tra Casaletto e piazza Venezia. E' tutto per questa edizione del Tg della Mobilità.